Ciao a tutti! Oggi prepareremo le farfalle asparagi e pancetta. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono asparagi puliti e tagliati a pezzetti con gambi e punte separate, pancetta, acqua, farfalle, scalogno, dado vegetale bimbi, olio, zafferano, sale e pepe. Andiamo via la ricetta! Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo scalogno e lo facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio e lo facciamo insaporire per 3 minuti a 120 gradi a velocità 3. Aggiungere i gambi, la pancetta, il sale e il pepe. Ed azioniamo il bimbi per 3 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità 1. Aggiungere l'acqua, il dado ed azionare il bimbi per 7 minuti. Aggiungere la pasta, le punte degli asparagi, lo zafferano, mescoliamo con la spatola e cuocere per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 12 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft con il cestello al posto del misurino per evitare gli schizzi. La pasta è cotta, impiattare e servire. Farfalle, asparagi e pancetta. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!